Sono venuto con le maschere, ho legato. E dove l'hanno legato? Dentro? No, così l'hanno legato, l'ho lasciato vicino al marciapie seduto. Quindi voi ce ne avevate un'altra di queste pale praticamente? Sì, questa è la nostra, la nostra ditta, invece quella della cooperativa l'hanno portata. No, l'ho legato, l'ho lasciato per terra e le sono portate di qua la palla. Grazie. Grazie. Grazie.